Buonasera dalla redazione di Roma, Daily News e bentrovati all'appuntamento con l'informazione della Capitale. Partiamo dalla politica incidente diplomatico sfiorato in Campidoglio questa mattina all'annuncio del presidente Laura Marcello De Vito che non si sarebbe lasciata parola agli interventi esterni durante il Consiglio straordinario sulle Olimpiadi. Il coordinatore generale del Comunitato Promotore di Roma 24, Diana Bianchetti, si è spostata in sala stampa insieme a un nuvolo di telecamere, improvvisando una conferenza e occupando di fatto metà dello spazio riservato ai cronisti. Ha deciso Beppe Grillo il no alla candidatura di Roma alle Olimpiadi? Dovete chiederlo alla sindaca. Queste le parole della Bianchetti durante la protesta. Passiamo alla cronaca da questa mattina all'alba in corso un'operazione antidroga al Quarticciolo a Roma, condotta da carabinieri della Compagnia Roma Casilina in esecuzione a due ordinanze di custodia codelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale Ordinario e quello dei minori di Roma, nei confronti di 12 persone, tra cui minorenni appartenenti a un'organizzazione criminale dedica a narcotraffico radicata a Roma, che ha stabilito la propria roccaforte proprio nella zona del Quarticciolo. Chiudiamo con la cultura. La mostra da sabato 1 ottobre al 12 febbraio 2017. Gli spazi e il compresso del Vittoriano ospitano l'opera, circa 60 capolavori, di Edward Hopper. Questo dell'artista statunitense è un gradito ritorno per Roma, che ha avuto l'occasione di ospitare, con grande consenso del pubblico, il suo genio già nel 2010 nella sede della Fondazione Roma Museo. Era questa l'ultima notizia per oggi, da Massimiliano Guerra e da tutta la redazione di Roma Daily News, l'augurio di una felice serata.